Gabriele Polini, presenzialista televisivo, oggi è il 11 maggio, un gruppo di ragazzi che stanno andando a Ostia sfidando la pioggia, mostriamo il tempo, è il tempo, se io dovessi scommettere, io chissà che lo scommesse, è dura, è un po' di soldi, però visto che oggi mancano un po' che si dovete scendere, c'è un compleanno che si festeggia della panciulla, nome, applauso simbolica, godetevi la vita, io adesso però simbolicamente, visto che è data il mare, un bagno alla coppietta si può fare? C'è acqua, è acqua del bagno, spero che sia pulita, presentativo simbolico, chiamaggiamo a Marco, godetevi la vita, ma soprattutto nel rispetto assoluto della minorità, perché io trovo che quello sia fondamentale, ragazzi viva, vi auguro il sole, il sole potrebbe uscire tra un paio d'ore, vi andrebbe bene? Sì, assolutamente, ok, entro l'11 deve uscire il sole, 11 e mezza, vi saluto, il sito, assolutamente, buona gita e viva, gruppetto di, da voi venite? Capena, ragazzi di Capena, il video sarà pubblicato entro 48 ore, ciao! Grazie a tutti!